Scontro al vertice sabato pomeriggio per l'Alba Verde, che ad Agi Castello affronta la capolista Zafferana. Le pallavoliste nissene sono reduci della schiacciante prova di forza contro la pallavolo Crotone e in settimana hanno lavorato al massimo per questa insidiosa trasferta contro le prime della classe al giro di boa del girone d'andata del campionato di serie B2 e girone M. Nel fine settimana la classifica avrà una prima stesura che sarà la base di partenza con cui le due squadre affronteranno poi la lunga volata del girone di ritorno. Ma per avere il risponso circa la regina d'inverno bisognerà tentere l'epilogo del big match in programma da Agi Castello domani pomeriggio. Entrambe le formazioni hanno lavorato intensamente anche durante la pausa natalizia e scenderanno in campo per dare vita ad un incontro che sulla carta si preannuncia ricco di pathos. Ecco il quadro completo della tredicesima giornata. Pallavolo Crotone Funivia Etna, Procoriericina Fidelis Torretta, Planet Ardens Comiso, Zafferana Albaverde, Saragena Gioiosa, Bricositi Stefanese, Volley Region Cus Catania.